Buonasera a tutti dal telegiornale regionale per i sordi. I PM di Firenze che indagano sul crollo di via Mariti potrebbero organizzare più perizie tecniche sul cedimento strutturale. Ma ci vorrà ancora tempo per affidare gli incarichi ai consulenti. E quanto si apprende a margine dell'inchiesta? Una perizia riguarderà lo stato della trave che ha ceduto, causando poi lo sfondamento dei solai sottostanti, le cinque vittime e i tre feriti. Ma gli accertamenti tecnici, secondo quanto emerge, potrebbero riguardare anche altri aspetti delle varie fasi della costruzione. E sempre su quanto è successo nel cantiere in via Mariti, alcuni tecnici responsabili dei lavori del cantiere sono stati sentiti in questi giorni dalla polizia giudiziaria. Ma secondo quanto emerge, ad ora sono stati interrogati come persone informate sui fatti, cioè come testimoni ascoltati per le prime informazioni. Lo si apprende a margine dell'inchiesta condotta dalla procura fiorentina per omicidio plurimo colposo e disastro colposo. sul cedimento strutturale che ha causato cinque morti e tre feriti gravi il 16 febbraio. E' un uomo, è rimasto ferito gravemente a causa di un infortunio sul lavoro. E' avvenuto stamani ad Avenza, siamo nella provincia di Carrara, un'azienda che si occupa di metalli e leghe. Da una prima ricostruzione sarebbe stato colpito al volto da un elemento, sembra una sorta di gancio. Il ferito ha riportato un trauma facciale importante, anche se è sempre stato cosciente e vigile, è stato poi trasferito all'ospedale Cisanello a Pisa. E' un'aggressione a scopo di rapina avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri nel centro di Firenze. Siamo a due passi dalla stazione. Tre le vittime, ventenni, uno dei quali ha avuto 30 giorni di prognosi per la frattura del naso. Presunti autori un gruppo di giovanissimi, poco meno di 10, tra cui alcuni minorenni. E la Guardia di Finanza rende noto di aver posto sotto sequestro un'area di oltre 3.000 metri quadrati nel comune di Volterra per la presenza di due capannoni con copertura di cemento amianto deteriorata e in parte crollata. L'intervento è stato condotto dai militari di Volterra, denunciata alla procura la proprietaria del terreno per violazione delle norme relativa alla gestione dei rifiuti speciali, scattata poi la segnalazione per la rimozione dell'amianto e la bonifica dell'area. Nella sua abitazione sono stati trovati 81 grammi di cocaina, 862 grammi di hashish suddivisi in vari panetti, due bilancini di precisione, diversi cellulari, materiali per il confezionamento e abilmente occultati, una pistola con matricola a brasa, una pistola scacciacani e 55 munizioni, il tutto detenuto illecitamente. Per questo un uomo è stato arrestato dai finanziari della compagnia di San Giovanni Valdarno. A Montelupo Fiorentino, oltre all'intervento delle forze dell'ordine indispensabile e costante sul territorio, è necessaria anche un'azione sinergica in grado di individuare efficaci e ulteriori linee operative e percorsi inclusivi, anche di impegno civico e quanto emerso dal Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica, la presenza del Sindaco di Montelupo, oltre ai vertici delle forze dell'ordine, che si è riunito nel pomeriggio di ieri per una profondita analisi sugli episodi di vandalismo e aggressioni ad opera di gruppi di giovani e un punto di situazione generale sulla sicurezza pubblica nel territorio. Il Borgo delle Camelie torna a fiorire nei due paesi di Piede, Sant'Andrea di Compito, siamo nella provincia di Lucca, ricchi di questa pianta, dei bellissimi fiori e da cui si ricava addirittura il tè, è tutto pronto per la 35esima edizione della mostra Antiche Camelie della Lucchesia e si svolgerà nei primi quattro fine settimana di marzo. E' una videoinstallazione che riprende i murales realizzati dallo street art britannico Bansky sui palazzi di Kiev e dintorni nel 2022, tra ruvine abbandonate e luoghi intaccati dai bombardamenti, sarà proiettata a ciclo continuo dalle 13 alle 14 al Cinema Astra di Firenze il prossimo sabato. Per l'occasione le poltroncine scompariranno sotto il pavimento e la superficie della sala sarà percorribile nella sua interezza. L'ingresso è libero. E la PET terapia per i pazienti con fibromialgia come terapia attraverso l'interazione con i cani viene sperimentata già da diverse settimane presso il Centro di Medicina del Dolore al Presidio Fiorentino Palagi e coinvolge otto pazienti con fibromialgia con incontri settimanali periodici che proseguiranno fino a marzo. E' rottura nel centro-destra ad Empoli, Andrea Poggianti, attualmente capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale ed ex candidato della coalizione nel 2019, si candiderà alle elezioni amministrative con una lista autonoma. La decisione era nell'area del tempo ed è arrivata a causa della scelta della coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia di candidare Simone Campinoti. E allo stadio Filippo Corsini di Fucecchio sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova pista di atletica leggera e delle nuove pedane. Un'opera attesa da anni per la quale è stato determinante il bando regionale che ha messo a disposizione 400 mila euro su una spesa complessiva di circa 454 mila euro. Nelle scorse ore c'è stato il sopralluogo del presidente della regione toscana e del sindaco e della vice sindaca e i rappresentanti delle associazioni sportive. Cocaina purissima per un peso di 55 kg è stata sequestrata a Livorno in una operazione congiunta tra guardia di finanza e reparto antifrode delle Dogani. Che ha portato anche all'arresto di tre persone. Secondo quanto spiegato degli investigatori, lo stupefacente arrivato al porto di Livorno in un container spedito via mare dal Sud America avrebbe fruttato oltre 200 mila dosi per un valore complessivo superiore. E oltre mille occhi a Firenze per monitorare la tramvia al passaggio della fresa impegnata nello scavo del sotto attraversamento dell'alta velocità e quanto previsto nell'ambito del piano di monitoraggio proposto dalle ferrovie al comune. Nel dettaglio il progetto prevede rilevamenti degli eventuali spostamenti della sede tramviaria con oltre mille dispositivi specifici. E la misurazione degli inquinanti ambientali nel quartiere Venezia siamo a Livorno a ridosso del porto vicino allo sbarco delle navi da crociera e quanto chiede per controllare la qualità dell'aria legambiente toscana dopo il via libera del progetto della Darsena europea e l'annuncio del cronoprogramma dei lavori. Ora vediamo come sarà il tempo domani, sarà molto nuvoloso, coperto con piogge, possibili temporali soprattutto nella serata, i venti sono moderati, i mari sono molto mossi e le temperature sono le minime in ulteriore rialzo, in calo le massime. Il telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci. Grazie